Ciao a tutti, bentornati sull'antimetà, siamo i Lorenz, e oggi siamo qui con le modifiche del mazzo dei vampiri di Ixalan, le caverne prodotte di Ixalan, il mazzo che come sempre non ce li prepariamo, però il comandante ce lo ricordiamo. Lodz Rides, ecco, Riti di Sangue, Clavilegno, Clavilegno, primo dei Benedetti, costa 3 di cui un bianco e nero, un 2-2, e dice ogni volta che un vampiro attacca... No, ogni volta attacchi. Ogni volta attacchi, ok, un vampiro attaccante bersaglio che non è un demone, diventa un demone, in aggiunto ai suoi altri tipi, e ha. Quando questa creatura muore, pesca una carta, crea una pedina di creatura demone, vampiro, 4-3 bianca e nera con volare tappata. Ok, fa pedina e fa pescare. Vampiro che fa pedina, fa pescare, costa poco, costa 3, quindi insomma... Esatto, si può puntare sul comandante in questo mazzo. Allora, prima carta che abbiamo pensato di togliere è Vona, la macellaia di Magan. Costa 5-4-4, cautela legame vitale, la tappiamo, paghiamo 7 vite, distruggiamo un permanente non terra bersaglio, attiviamo solo durante il nostro turno. È lenta, costa tanto, ma chi usa? Esatto, anche perché fa vite, sì, con legame vitale, però insomma dobbiamo pagarne 7, vuol dire che... Esatto, più che altro la possiamo dare solo nel nostro turno, quindi nel nostro turno o attacchiamo... O a cautela. Sì, vabbè, a cautela, però rimane tappata nel turno degli altri, quindi è un parente in meno e non puoi fare niente risposta, quindi... Insomma, sembra un po' lenta e macchinosa. Suo posto abbiamo pensato all'Eggdar di Promessa Cremisi. Eggdar Charmed Groom, costa 4, sempre un bianco e un nero, 4-4, fa lord dai vampiri, prendono più uno più uno gli altri vampiri, e quando muore lo facciamo tornare in campo di battaglia, trasformato sotto il nostro controllo, e il suo secondo lato si chiama Eggdar Markov Coffin. E' un artefatto leggendario che dice all'inizio del tuo mantenimento, crea un vampiro uno uno bianco e nero con Lifelink, e metti un segnalino Bloodline sul Coffin. Quando ci sono tre o più segnalini Bloodline su di esso, rimuovi i segnalini e trasformalo. Quindi ritorna il nostro Eggdar. Ritorna il nostro buon vecchio Eggdar, che continuerà a fare da lord e quindi va avanti all'infinito, insomma, fino a che non ce lo esigliano. Quindi, insomma, lord ai vampiri, schifo non fa, e ci sembra ottimo. Poi abbiamo deciso di togliere Bartolome del Presidio, costa un bianco e un nero, 2-1, dice sacrifica un'altra creatura, ortefatto, e metti un segnalino più uno più uno su di lui. Non è così impattante, costa poco, va bene, però non preferiamo altro. Abbiamo scelto di mettere... Quindi, oltre ad andare alle gambe vitale a tutte le nostre creature fino a fine turno per fare una mega combat, che ci farà guadagnare punti vita e farà perdere tanti di vita in avversario, ha quell'effetto base di far perdere vite gli avversari quando facciamo vite di base. Comunque il mazzo è disseminato di piccoli effetti che ci danno vite. Sì, piccoli effetti che fanno fare vite e quindi questo qui ci sta a pennello in questo mazzo. Parecchie creaturine con lifelink che... Sì, a parte che Vittor è forte a prescindere, quindi è una carta forte, punto. Quindi aggiunta che ci voleva. Altra rimozione, cioè un'altra carta rimossa, abbastanza scarsa. Il vampiro giurato, costa 2-2-2, entra tappato e puoi lanciare il vampiro giurato tutto dal tuo cimitero e segue gli altri punti di vita in questo turno, quindi nè, facciamo senza. Mica tanto speciale, al suo posto Teisa Karlov di Ravnica Alliagents, costa 4, di cui un bianco e un nero. Dice che le pedine e creature che controlliamo hanno cautela e legame vitale. Questo ci avvantaggia sulle pedine che crea Cavilegno. Esatto, saranno dei vampiri 4-3 volanti, cautela e legame vitale, quindi non male. E in più dice, se una creatura che muore fa innescare l'abilità innescata di un permanente che controlli, quell'abilità si innesca una volta in più. Quindi, quando una creatura muore, peschiamo una carta e creiamo un demone, e lo succederà due volte, ogni volta una creatura muore. Stessa cosa succederà con gli altri effetti che ci sono nel mazzo, gli effetti passivi dei vampirelli che possediamo, che dicono che quando una creatura muore e fai una vita, l'avversario perde una vita, tutti questi tipi di effetti si innescano più volte. Quindi Teisa Karlov è molto molto forte. Altra carta rimossa, l'ordine del Sacro Vespro, costa 8, di cui un bianco e un nero, con un 5-5, con convocazione, ovvero le creature che controlliamo possono lasciarci a pagare questa magia, ogni creatura che tappiamo, mentre lanciamo questa magia, costa 1 in colore in meno, a volare la mia vitale rapidità, a esaltato, quindi ogni volta una creatura che controlliamo attacca da sola, prende il piano in pieno e fine turno, e gli altri vampirelli che controlliamo hanno esaltato. Sinceramente non è così bello, anche perché esaltato devi per forza attaccare con una creatura, però facendo con Clavilegno un po' di pedine demoni, vampiro, con volare, magari puoi attaccare con più di una creatura, quindi non sfrutti l'esaltato. Costa tanto, anche se puoi convocarla, devi tapparti fuori delle creature che ti possono fare comodo in parata, quindi via. Che 5-5 non è male, ma costo 8, è tanto, è tanto. Al suo posto abbiamo pensato a Driftnod, Carnage Dominus, il Dominus nero di Phyrexia Will Be One, costa 5, è un 8-3, e ha lo stesso effetto della nostra signora Teisa Carlo, praticamente, se la morte di una creatura sta per causare trigger, un'abilità di impermanente che controlliamo, trigger una volta in più. La cosa un po' più forte è che è un 8-3, e tappando due mana Phyrexian in neri, esiglite creature dal tuo cimitero, e metti un insieme indistruttibile, quindi è più difficile da tirar via. Molto più difficile, non sinergizza con Clavilegno, non sinergizza, ma aiuta il comandante. Non sinergizza subito, ma all'allunga, anche perché lo scopo di Driftnod non è sicuramente essere mandato al macero per farlo diventare un vampiro, questo è quello che migliorerà l'effetto delle altre creature vampiro. Esattamente, lui non attacca finché non ha lo segnale indistruttibile. No, e non attaccherà comunque. O forse sì. Può essere. Altra carta rimossa è il Martire del Vespro, costa 2-1-2-1, che quando muore crea un vampiro 1-1 bianco con legame vitale. Insomma, abbastanza scarsetto, niente di speciale. Al suo posto abbiamo provato a mettere dentro Drana e Linvala, un 3-4, che costa 4 di cui 2 bianchi e 1 nero, Angelo Vampiro, che ha Volare e Cautela, e dice le abilità attivate delle creature controllate dai tuoi avversari non possono essere attivate. Drana e Linvala hanno tutte le abilità attivate di tutte le creature controllate dai tuoi avversari. Può spendere il mana, come fosse il mana di qualsiasi colore, per attivare quelle abilità. Quindi, non è sinergico per l'effetto di clavilegno, però, essendo vampiro, subisce l'effetto di clavilegno, quindi può essere utile. Ma è dannatamente fastidioso per gli avversari che non possono attivare le abilità attivate delle loro creature, finché è in campo. E gli rifreghiamo 9, quindi, quelle abilità. Ottimo. Una carta proprio da disturbo. esatto, esatto, questo qui, diciamo che annulla anche le abilità di mana, quindi, siccome non specifica l'abilità non di mana, annulla anche tutte le abilità, ad esempio, degli elfi che hanno tappa, aggiunge un mana verde, o di tutte quelle creature che, appunto, tappandole, aggiungono mana. Tappiamo Drana e Linvala per aggiungere un mana verde. Sì. Dopo che abbiamo attaccato, che ha cautela. Esatto. Ci sta. Ha senso perché attacca, trigger a clavilegno, vola elusiva, e poi la tappiamo per un'abilità attivata, speriamo forte. Quindi, Drana e Linvala non male. Altra rimozione, è lo Zelotta della regione del Vespro, costa 2, è un 1-1, che quando entra, ci fa pescare una carta e perdere una vita. Anche qua, effetto carino, però, insomma, un commander non sposta gli equilibri. Eh no. Almeno, non tanto quanto... Il Pwn of Ulamog. Costa 3, è una carta di un commander, vecchio, mi sembra. Questo è il commander del 2016, era gli anni... No, questo è il commander di 2017, è proprio quello di Markov. Markov, di Edgar. È un 2-2, dice, ogni qual volta lui, o un'altra creatura non pedina, che controlli, muore, puoi creare un drazzi in colore 0-1, token, che ha, sacrifica questa creatura, aggiungi un mana in colore alla tua riserva di mana. Quindi, questo aiuta ad aumentare la nostra riserva di mana, anche se non è colorata, ma per pagare costi incolori, va più che bene. Esatto, anche perché comunque, un mazzo senza il verde, fa fatica a rampare, con il nero e il bianco, riusciamo comunque a pescare, però avere quei mana in più, sicuramente, non sono bravi, non sono male. Poi, essendo che li devi sacrificare, magari ci sono anche effetti, che ne giovano, da questo sacrificio. chiaro, esatto, tipo come abbiamo detto, quando, no, ci sono altri effetti, magari di altre carte, che possono essere utili, sul sacrificio. È vero, qualcosa l'abbiamo visto, che lavorava sul sacrificio, anche se abbiamo cercato, di toglierli, perché non gira, proprio sul sacrificio, questo mazzo, però, c'è qualcosina, mi sembra, che ne tra beneficio, però, nel complesso, la sua abilità, del mana, è utile. Un'altra rimozione, l'ultima creatura, che andremo a togliere, no, scherzo, la penultima, che andremo a togliere, è orrore sanguinario, costa due nere, e un 2-1, che non può bloccare, e ha rapidità, fintanto che un avversario, ha 10 o meno punti vita. In più, a terraferma, e dice, quando una terra, entra nel campo di battaglia, sotto controllo, può rimettere, sul campo di battaglia, dal cimitero, l'orrore sanguinario. Allora, diciamo che, non è malvagio, utile perché torna dal cimitero, quando giochiamo a terra, quindi, carino, perché torna, hai una creatura in più, da usare come parante, da usare per fare qualcosa, però, vabbè, non è così, indispensabile. No, non è male, ma non è neanche così forte. Sicuramente, abbiamo preferito, che dal cimitero, tornino due creature, grazie a victimize, costa 3, stregoneria, scegli due creature nel tuo cimitero, sacrifica una creatura, se lo fai, fai tornare le due creature scelte, in campo tappate. Lo scopo è anche, sacrifici una creatura, che è un demone, grazie a clavilegno, così, esatto, oltre a tornare le due creature, peschi una carta, e crei un altro demone, quindi, questa è una di quelle carte, che però non si ergenizza, con la carta che aveva messo dentro prima, quella che fa gli eldrazzi, perché se la sacrifichiamo con victimize, non facciamo il mana. Non facciamo il mana, però, se proprio è, che dobbiamo sacrificare, una creatura, esatto, piuttosto che, sacrificare una creatura forte, meglio, un eldrazzi, esatto, e fine. Altra carta, molto forte, molto scarsa da togliere, molto forte da togliere, stavo leggendo quella che vedete qua, l'altra da aggiungere, quella da togliere, il cuore di vetro colato, costa tre artefatto, quando uno più vampiri che controlli attaccano, crea una pedina sangue, tappa un nero, tappa il cuore, paga una vita, crea un vampiro, un uno bianco e nero, con legame vitale, tappa due neri e il cuore, sacrifica il cuore, e tredici pedini sangue, ogni aver saluto perde tredici vite, e tu guadagni tredici vite, è lungo, macchinoso, è lungo, è carino fare le pedine sangue, perché può aiutare, è carino fare un partirello, le pedine sangue non mi piacciono, granchè, sono miei, peschi e scarti, a me scartare non mi piace, però, a lungo andare, se hai le terre, o cose così, le terre le gioco, non le scarto neanche quelle, potrebbero a volte tornano utili, comunque non è un granchè, sicuramente, la tua carta preferita, è molto più forte, infatti mettiamo dentro, i bene amati, dei tamidi Erebos, un incantesimo, costo 5, della vecchia Teros, quella bene amata da Lori, questo è il viaggio verso Nyx, esatto, un incantesimo con Lampo, e dice, ogni volta una creatura, ai controlli muore, ogni avversario sacrifica una creatura, quindi noi sacrifichiamo magari, un caglino e il drazzi, per farci un mana, e tutti gli avversari, devono sacrificare una creatura, che sia forte o debole, e a noi non interessa, è sempre un pezzo in meno, che hanno loro, esatto, e poi dice, ogni avversario, quindi tutti, allora, altra carta da togliere, diciamo l'ultima carta, vera da togliere, è il campione del Vespro, creatura a costo 5, 4, 4, quando entra Peschi X, carta e perdi X vite, dove X è il numero di vampiri che controlli, abilità che può essere forte, ma anche pericolosa, perché se abbiamo tanti vampiri, rischiamo di perdere tante vite, diciamo che, la maggior parte delle volte, che utilizzo una carta, che ha questo tipo di effetto, cioè Peschi X, dove X è il numero di cose che hai, ne ho sempre poche, quindi pesco sempre poco, e costa sempre tanto, la carta da lanciare in quel modo, questo qui in effetti, costa 5, è un abbastanza costoso, non esagerato, ma abbastanza, quindi, vabbè, ci fa pescare, ma non è netto che ci faccia pescare tanto, quindi, lo tiriamo via, e ce l'ha messo dentro, l'arena di Phyrexia, esatto, incantesimo costo 3, all'inizio del tuo mantenimento, pesca una carta, e perdi una vita, effetto molto più, più efficiente, anche perché peschiamo una alla volta, esatto, più spalmato nella partita, perdiamo una vita, ma in teoria, essendo un mazzo vampiri, quella vita in più, la rifacciamo, entra anche prima, non è dipendente, dal numero di vampiri, e insomma, non è assolutamente male, poi del campione del Vestro, comunque, c'è una copia, a stregoneria, che fa lo stesso effetto, e costa meno, quindi insomma, diciamo che i modi di pescare, in questo mazzo ci sono, il comandante in primi, si fa pescare, e poi gli abbiamo messo dentro, anche alcune carte, che aiutano con la pescata, poi abbiamo a lavorare anche, due cose sul reparto terre, andiamo a tirar via, una bella palude, per mettere la Malachir Rebirth, Malachir Rebirth, che è un istantaneo, a costo un nero, che dice, una creatura che controlli, cioè scegli una creatura che controlli, perdi due vite, fino a fine del turno, quella creatura guadagna, quando questa creatura muore, farà tornare sul campo di battaglia, sotto il controllo del suo proprietario, tappata, può essere utile, sia per salvare Clavilegno, che per rianimare, una creatura, che era diventata un demone, che quindi ci farà, pescare, creare il vampiro demone, e così non l'andremo neanche a perdere, esatto, o se siamo messi male, ci siamo messi male, esatto, questa carta è forte, costicchia anche qualcosina, infatti noi tempo fa, avevamo consigliato di recuperare, queste terre modali, della nuova Zendical, di ritorno a Zendical Rising, perché sono carte che in Commander, occupano uno slot di una terra, esatto, però possono essere usate anche in un altro modo, infatti questa qui è sicuramente, è una, tra virgolette, anche delle migliori, perché è un istantaneo, con un effetto forte, a costo uno, che al posto di una palude, è una terra nera, che entra tappata, però se ce l'abbiamo in prima mano, mi dà anche poco fastidio, il primo turno è difficile, avere qualcosa da giocare subito, cioè almeno non sempre, hai qualcosa da giocare in primo turno, quindi terra tappata e via, se ti arriva in late game, dove terra magari non hai bisogno, è comunque un istantaneo, molto molto utile, assolutamente, quindi magari faremo anche una puntata apposta, sulle terre modali di Zendical, sulle carte, faremo, dobbiamo tornare con le pillole di Commander, quindi potrebbe essere una pillola di Commander, le modali di Zendical, poi altra carta da togliere, una bella pianura, e al posto di una bella pianura, visto che comunque, con i colori, non rampiamo e tutto, e dobbiamo pescare, e questo qui è un mazzo, che ci incentiva ad attaccare, sia con le creature volanti, che con quelle che, speriamo che vengano uccise, per crearci i demoni, mettiamo una bellissima Mina Steerit, terra leggendaria, che entra tappata, a meno che non controlliamo una creatura leggendaria, quindi speriamo di avere il comandante, il comandante entra già stappata, ci aggiunge un bianco, tappando due, di cui un bianco e lei, peschiamo una carta, attiviamolo solo se abbiamo attaccato, con due o più creature in questo turno, esatto, quindi speriamo di poter attaccare, quindi una bella terra, anche questa qui non costa tanto, carta utile in Commander, che vi consigliamo nei mazzi bianchi, che lavorano con tante cratorine, sull'attacco, quindi calza a pennello, in questo mazzo Riti di Sangue, direi che questo video di potenziamento, giunge al termine, dall'antimeta è tutto, al prossimo video, Grazie. Grazie.